ciao ragazzi siamo qua alle nostre ricette come detto l'altra settimana questa volta vi faccio una ricettina di pesce dato che il periodo è buono faccio queste triglie in brodetto adesso si trovano delle belle triglie quando il mare lo permette e una ricetta molto semplice non è complicata adesso vi faccio vedere il procedimento i nostri ingredienti le azzughine sale pepe bianco prezzemolo aglio olio d'oliva passata di pomodoro le nostre triglie vedete che abbiamo preso stamattina ben pulita levate le branche dentro viscerate squamate via la coda e ben lavate fuoco pavelina antiaderente un po d'olio d'oliva basta così le nostre azzughine facciamo sciogliere un allio nell'olio nell'olietto così lasciamo aggiungere il nostro aglio prezzemolo qua prezzemolo facciamo girare tutto velocemente proprio senza bruciare niente passata di pomodoro adesso facciamo andare un pochino il nostro pomodoro e qui c'è il mio genero Wani che lui ci farebbe due spaghetti qui dentro io lo so perché lui me lo dice sempre un pizzico di sale ok aggiungiamo le nostre tagliette in questo modo vedete un asciughino abbondante eccole là e sistemiamo un attimo così e non le muoviamo più perché sennò si rompono facciamo goccire più o meno quanto? 10 minuti e dopo sono pronte? si mmm mmm Per me è una cosa giusta, ma se non ho fatto niente. Perfetto. Guarda. Wow, bello. Per me è perfetta. Direi di sì. Top. Bene, siamo qua raga. Andiamo ad assaggiare questa triglia. Speriamo sia venuta bene. Sono fantastiche. Le ho viste, forse sono un po' rosse, ma devono essere così. Triglie in brodettino, ok? Alla livornese, dai. Andiamo ad assaggiare. Qui c'è anche un bel crostoncino di pane. Sotto. Vedete? Guarda che bello. Eccoci qua. Guarda. Guarda. Ti piacciono anche a te queste? Favolose, belle pomodorine. Aspetta che ne sa già un altro pezzo. Guarda. Questa triglina. Andiamo a prendere così, eh? Col coltello. Buona, 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 buona. Ottima. Bella pomodorata. È venuta proprio bene. Con questo pomodoro domani facciamo un bel piatto di spaghetti, se rimane, ok? Ci mangiamo le trigline e poi facciamo lo spaghettino, ok? E andiamo a palla. Allora, ragazzi, mi raccomando, come vi dicevo tante volte, YouTube, se vi ricordate, dai, Facebook, un bacio a tutti, perché siete fantastici. Ah, volevo dirvi che la prossima settimana vorrei fare un piatto di carne che non ho mai fatto. Vorrei fare un bello straccotto ai funghi. Poi vi spiegherò come. Sarà una ricetta un po' elaborata, ma molto, molto buona. Bene, vi saluto, vi ringrazio se mi seguite. So che molti mi seguono, a Riccione, ma anche fuori Riccione. Ho saputo di un mio amico che aveva una ragazza che adesso non sono più insieme. Lei è pugliese e mi segue da Bari. Saluto. Molto bene, un saluto. Sai chi sei. Vedrai che se mi segui ti ricorderai di me. Ciao a tutti, un bacio e viva il supermercato Abissinia. Dove stanno pagando? No, non mi pagano, dai, però sono bravi. Ciao a tutti. Ciao.